Dallo stadio comunale di Palma Campania per raccontarvi il dodicesimo turno del campionato di serie di Girone H tra Palmese e Nocerina. Stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco con la formazione locale che si schiera con il completo interamente bianco per ospitalità in favore della Nocerina che si schiera con il completino a strisce verticali rosso e nero, pantaloncino e calzettone nero. Sarà la Nocerina a giocare il primo pallone del match, sul punto di battuta si è presentato il capitano Stefano D'Agostino, si attende il fisco dell'arbitro che arriva in questo istante, partiti, mette a terra il pallone col petto, punta l'area di rigore, entra all'interno della stessa, parte il tiro e per poco non trova l'incrocio dei pali. Volpe per Fusco, prova di stendersi sulla destra con Sant'Arpia, la Palmese, super a Tempra, attenzione Sant'Arpia all'interno dell'area di rigore di Bergoglio di Sant'Arpia. Allora, primo tiro in porto. Viene colpito Marquez, attenzione, forse c'è il rosso, sì, c'è il rosso per Galatofiore. Un inutile fallo a compromettere il match. Vi da salire Peluso sulla destra, prova Peluso il tiro, basso ancora la Palmese, arrivando al doppio della Palmese sulla respira di Vozischi. Una dormita di Silvestri e Sparandeo, è il 2-0 della Palmese. Serve D'Agostino, prova di stendersi la Nocerina sulla destra con Faiiello in area di rigore, arriva il gol di Faiiello. Il primo gol in campionato di Faiiello, servito splendidamente da D'Agostino. Al trentottesimo minuto, Palmese 2, Nocerina 1. Vada a centrarsi, parte il tiro cross, Tempra di testa, tocca il pallone ma la sfera finisce oltre la traversa. Il pallo di squadra, tratta di Peluso. Lancia in avanti per Santarpia, c'è il fallo di Padalino. Rosso anche per Padalino. Fallo su Santarpia che gli è sgusciato davanti, risabilita la parità. Il primo pallone del secondo tempo è giocato dalla Palmese. Partiti, lancia in avanti di Ceprano. Santarpia ancora, ancora verso Ceprano. C'è il baudo, capisce tutto. D'Agostino, prova a lanciare Marquez, al limite dell'area di rigore. Marquez serve sulla destra per Faiiello. Parte il cross, basso pallone per Marquez. Salva la propria porta, il portiere della Palmese. Lì Sparandeo, attenzione, ancora la Palmese in attacco. L'altro lato. Parte il cross all'interno dell'area di rigore. Ancora Santarpia, attenzione, Ocoli non riesce a mettere il pallone verso la porta dai 6 metri. Il cross di Bono, contratto alla schiera di un avversario, Ocoli, spara in avanti su Provenzano. Arbido dice che è tutto regolare, pallone per Faiiello. 1-2 con Marquez, Faiiello all'interno dell'area di rigore, parte il tiro. Salva, quasi sulla linea. Non è sbagliato di Silvestri, ne approfitta di Berti. C'era una situazione di offside, no, l'arbitro dice che è tutto regolare. Manu all'interno dell'area di rigore, parte il tiro e arriva il gol di Manu. Appena entrato, lasciato solo. 3-1 per la Palmese. Pollini, cercate il soldo Wolf, Silvestri anticipa di testa Ferrari. Di prima intenzione verso Marquez, deve vedere con Dorsi. Dorsi tocca il pallone. Marquez recupera il pallone, serve verso Ferrari che realizza il 2-3. Quando siamo giunti al trentesimo, Ferrari. E quel popolo che ha giocato la nocina non l'ha fatto benissimo, a dire la verità. Dobbiamo essere onesti. Colpe. Serve per il numero 5, al limite dell'area di rigore, parte il tiro. Pallone che finisce fuori, tiro ad opera di Virgilio. In avanti verso Ferrari, fa buona guardia a Virgilio. Poi spara verso Manu. Si sente e dice che è regolare. Attenzione Manu. Parte il tiro di Manu sul secondo palo. Non riesce ad impattare Volpe. Arbitro pischia la fine del match. La Palmese fa su il derby. Vincendo contro la nocina per tre rete a due.